Al programma Verissimo, cari amici, abbiamo visto la figlia di Sinisa Miajlovic, ovvero Virginia Miajlovic, in lacrime. La figlia del grande Sinisa si è raccontata nel salottino del sabato pomeriggio di Mediaset. E chiaramente il racconto non poteva non andare a vertere sul matrimonio della ragazza e del grande assente all'evento. Come infatti abbiamo più volte raccontato, la giovane si è sposata lo scorso giugno con Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa. E proprio mentre la ragazza raccontava tutto ciò, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ho capito subito che fosse quello giusto ha quindi raccontato Virginia Miajlovic a Silvia Toffanin, riferendosi al marito Alessandro. Essere mamma è stato da sempre il mio sogno. Ho una sorella e tre fratelli, non riuscirei mai a vedere una casa silenziosa e vuota. Mi sono sempre detta, spero di riuscire a creare una famiglia come quella della mia mamma e del mio papà, e appena ho trovato la mia stabilità ho voluto un figlio. E ancora Virginia Miajlovic. La mia bambina ha dato gioia in casa in un periodo non molto bello. A chi mi ha chiesto come avessi fatto a sposarmi così presto dopo la morte di papà, io rispondo che è quello che avrebbe voluto. Avevo anche il desiderio di dimostrare a Alessandro che sono forte. Volevo giurargli amore eterno. Virginia Miajlovic ha quindi confessato che ogni cosa che la rende felice, corrisponde sempre molta tristezza perché non può condividerla col papà, il vero amore della sua vita. La donna ha quindi raccontato che il matrimonio chiaramente non è stato semplice, ma grazie al supporto della famiglia ce l'ha fatta. La figlia di Sinisa Miajlovic e Alessandro Vogliacco si sono conosciuti nel 2017 a Torino. Anche lui calciatore, Alessandro ha conquistato la stupenda Virginia e le è stato accanto nel periodo forse più brutto della sua vita, quello della perdita di Sinisa Miajlovic, sconfitto dal tumore. Neanche Silvia Toffanin è riuscita a trattenere la lacrime insieme, le due si sono dovute asciugare le lacrime durante la registrazione della puntata di Verissimo 2023. Un momento davvero molto toccante. Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.